Piers Morgan ha rivolto ulteriori critiche a Meghan Markle dopo il lancio della sua nuova impresa commerciale, che ha coinciso con il Diana Legacy Award.Piers Morgan ha criticato lo scarso tempismo di Meghan Markle dopo aver lanciato questa settimana il suo nuovo marchio su Instagram, American Riviera Orchard. Su Twitter, ha scritto, Meghan Markle che lancia la sua nuova attività di sfruttamento del titolo reale vendendo spalmabili di aglio lo stesso giorno in cui viene onorata la memoria della principessa Diana, la riassume quasi.Fa schifo.Il lancio ha coinciso con il Diana Legacy Award, che prevedeva un'apparizione video del marito di Meghan, il principe Harry. La sua nuova impresa commerciale segna il primo post sui social media della duchessa di Sussex dal 2020. Sembra che abbia in cantiere dozzine di prodotti lifestyle per la casa, anche se per ora non è in vendita nulla. Il nuovo marchio di Meghan è stato annunciato con una serie di nuove post su Instagram che compongono uno stemma dorato utilizzando la sua stessa calligrafia. Sebbene l'account abbia già ben più di 300.000 follower, alcuni commentatori hanno criticato i tempi del lancio. Altri hanno addirittura suggerito che la duchessa potrebbe aver violato il suo rigido accordo con la famiglia reale. Grazie per la visione. Grazie a tutti i nostri spiegati. Grazie a tutti. Alla prossima è stata assolutamente nella sede. Grazie a tutti. Grazie a tutti.